Musica Ben trovati all'appuntamento con dentro il consiglio Il nostro settimanale che ci porta all'interno del consiglio regionale della Toscana Sono tre gli argomenti che affronteremo in questo nostro incontro In primo piano la morte di Silvio Vernusconi E il minuto di silenzio per ricordarlo Proposto dal presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzea Il difensore civico e soprattutto l'aula che approva una risoluzione di apprezzamento Per la sua attività del 2022 Si parla anche del festival Torrita Blues che si tiene a Torrita di Siena E prima dell'inizio del consiglio regionale della Toscana di martedì 13 giugno Su invito del presidente Antonio Mazzeo Il consiglio regionale ha osservato un minuto di silenzio Per ricordare la figura di Silvio Vernusconi scomparso all'età di 86 anni Dopo il minuto di silenzio in memoria di Vernusconi Ha preso la parola Marco Stella, presidente del gruppo Forza Italia Per un breve intervento in suo ricordo Mandiere a mezz'asta poi nel palazzo del Pegaso Dopo che il governo ha programmato il lutto nazionale E l'occasione del funeral di Stato dell'ex presidente del consiglio In programma nel Duomo di Milano mercoledì 14 giugno È stato così cancellato ogni evento Compresa la seduta dell'Assemblea Legislativa programmata E però ricordiamo che dopo il ricordo per Silvio Vernusconi Il consiglio regionale sempre su proposta del presidente Mazzeo Ha osservato un minuto di silenzio per commemorare anche la figura di Francesco Nuti Regista e attore pratese Anche egli è scomparso proprio il 13 giugno all'età di 68 anni Oggi è un giorno un po' impegnativo per tutta la comunità politica di Forza Italia Da ieri stiamo ragionando tutti insieme su quello che abbiamo passato insieme al presidente Berlusconi Per chi per esempio per come me dal 1993 in questa comunità politica Facendo 30 anni di militanza accanto a tante donne e uomini Che insieme al presidente hanno costruito questo partito E che hanno cambiato radicalmente il voto di questo paese La domanda vera è che paese sarebbe stata l'Italia senza Silvio Berlusconi Sarebbe stato un paese sicuramente meno libero, meno competitivo Sarebbe stato un paese culturalmente peggiore rispetto a quello che il presidente ha lasciato Il presidente ha costruito nell'arco degli anni qualcosa di incredibile Partendo dalle sue avventure imprenditoriali Io voglio ricordare per chi l'ha visto come me Anche soltanto un paio di mesi fa cos'è Milano 2 Una costruzione nel 1970 estremamente innovativa Perché all'interno di quella costruzione alla periferia di Milano C'erano gli asili nido, c'erano le menze, c'erano le chiese C'erano le aree pedonali, le piste ciclabili Cose che ancora nelle città non esistono Il presidente riusciva a costruire nel 1970 Penso al Milan, 31 anni di presidenza Berlusconi 29 trofei vinti, 6 Champions League e 5 scudetti Qualcosa di straordinario L'avventura sportiva che soltanto Berlusconi poteva portare in Italia Stravolgendo completamente il calcio italiano Che prima era estremamente difensivo Facendolo diventare un modello da esportare in tutta Europa L'attività imprenditoriale Molti sostengono che Silvio Berlusconi abbia reato la propria fortuna Grazie ad una legge che ha consentito la libertà Delle emittenti radio televisive in questo paese La domanda vera credo che ci dobbiamo tutti fare Perché era preclusa quella libertà Perché in questo paese soltanto l'emittente nazionale La RAI poteva trasmettere a livello nazionale E le tv locali non potevano farlo Ecco, il presidente ha cambiato anche questo E poi c'è l'avventura politica E mi riguarda sicuramente più da vicino Io penso che il presidente abbia lasciato a questo paese Molta più libertà rispetto a quella che c'era prima Abbia lasciato a questo paese Una dimensione dell'individuo rispetto a quella A cui eravamo abituati con i vecchi partiti Ha completamente stravolto il paradigma Eravamo abituati a farci dire dallo Stato Cosa era giusto o non giusto fare Senza tenere in considerazione le libertà individuali Il presidente ha rimesso al centro Della politica e della cultura italiana L'individuo, cioè viene prima l'individuo Vengono prima i sogni personali di ognuno di noi Rispettando naturalmente le leggi Ma rispetto a quello che lo Stato ci deve dire Di cosa possiamo o non possiamo fare E poi c'è l'uomo Che se l'imprenditore, il politico Era assolutamente tenace Un grandissimo lavoratore L'uomo aveva un profilo umano Che era avvolgente Era un uomo che riusciva a metterti a proprio agio Era un uomo che quando parlava con te Ti faceva sentire al centro del mondo Diventavi la persona più importante Aveva questa capacità di poter parlare con Putin o con Bush E poi un minuto dopo Riconcentrarsi assolutamente su di te Aveva appena acquistato il Milan Venne a Firenze Mandò il dottor Galliani E prese Massaro il sottoscritto E da lì iniziò la conoscenza con la persona Che fu la prima volta ad Arcore Dove ci convocò tutti e cinque i nuovi acquisti E lì conoscemmo di persona Proprio il presidente Era un uomo Era un visionario Un uomo che aveva dei grandi Aveva delle grandi prospettive In tutti gli ambienti dove lui si è calato Aveva proprio una visione Che era vent'anni avanti a tutti Nella televisione Nello sport Nella politica Nell'editoria Era un uomo che Veramente trascinava Aveva un grande entusiasmo E soprattutto aveva Riusciva ad avere una grande empatia Con tutti quelli che incontrava Io lo ricordo per la sua grande disponibilità Ma soprattutto la grande generosità È un uomo che non si è mai dimenticato Di chi ha lavorato con lui E anche figure Che probabilmente Che spesso Potevano Annebbiare O fuscare Quello che era il suo percorso Lui non le ha mai rinnegate E credo che questo Dimostri la grandezza di una persona Ho condiviso La scelta Del Consiglio regionale Di sospendere i lavori Di fare una giornata di lutto Nazionale Anche dei nostri lavori Di un momento di riflessione Di colui che è stato Un innovatore della politica Che ha cambiato Il sistema politico Oggi si parla di bipolarismo Perché lui ha creato Il concetto di centrodestra E di centrosinistra Che non esisteva Nella prima repubblica Ha creato una dicotomia Ha portato avanti Le proprie stanze liberali Io sono sempre stato Dall'altra parte Non l'ho mai votato L'ho sempre criticato Il mio impegno politico Nasce antitetico Alle politiche E alla figura di Berlusconi Che oggi viene riconosciuto Però come Un soggetto politico importante Una personalità Un presidente del Consiglio Che è stato Più di 3.300 giorni A guidare il nostro paese Colui che più di ogni altro Nell'epoca repubblicana Ha guidato l'Italia Che ha innovato Il sistema della comunicazione Che ha fatto impresa Che ha creato Grandi successi nello sport Una grande personalità Che viene riconosciuta oggi Forse del quale oggi Tutti mi auguro Possano portare rispetto Io in primis Lo porto E riconosco Diciamo La correttezza Di fermarsi Un giorno Perché quando una personalità Di questo calibro Lascia il nostro paese È corretto Che poi ciascuno di noi Si interroghi Su quello che ha prodotto E di come ha innovato La seconda repubblica In tanti ci siamo interrogati Quando dovesse nascere La terza repubblica E io credo che insomma Con la scomparsa di Berlusconi Finisce l'epoca Della seconda repubblica Veramente con la scomparsa Di Berlusconi Si chiude il novecento italiano Finisce il secolo sterminato Come lo definiva Marcello Veneziani In un suo libro Quindi si chiude veramente Un'epoca di storia Che è stata Per noi L'epoca in cui Ci siamo avvicinati Alla politica Io ho votato La prima volta Quando Berlusconi Era appena disceso in campo Quindi per me Berlusconi ha rappresentato Tutta la storia politica A volte condividendone Le idee A volte no Ma ha rappresentato Sicuramente Una pagina Indelebile Della mia vita E della vita Di tutti quelli Che oggi Condividono con me L'esperienza Di Fratelli d'Italia Chi fa polemica Lo fa per ritagliarsi Una piccola Qualche minuto Di notorietà Alle spalle Di questo gigante Della storia Penso non su tutti Al rettore Dell'Università Di Stranieri di Siena Che è un uomo Che ambisce Ad essere anche lui Ricordato Per essere un grande Intellettuale Un grande accademico Fondamentalmente Oggi ce lo ricordiamo Per due bischerate Una volta Perché ha aperto bocca Ha detto una bischerata Sui martri delle foibe Una volta Perché ha aperto bocca Ha detto una bischerata Su Silvio Berlusconi Non è il massimo Il Consiglio regionale Della Toscana Ha approvato Attraverso una risoluzione L'attività svolta Dal difensore civico regionale Del 2022 La risoluzione Già approvata Nella commissione Affari istituzionali Preseduta Da Giacomo Bugliani Passa con 21 voti A favore 11 voti Contrari E lo stesso Presidente Bugliani A tratteggiare le linee D'attività Del difensore civico Lucia Annibali Dopo un periodo Non semplice In cui di fatto È risultata vacante La figura Del difensore civico regionale Si è arrivati Alla designazione Di Lucia Annibali La quale si è presentata Puntualmente In prima commissione Per relazionare Sull'attività Del 2022 Nella evidente anomalia Che in quell'anno Non era Lucia Annibali Ad essere il difensore civico Della regione toscana Nonostante questa È stata l'occasione Per riflettere Sull'attività Del difensore civico E fare anche Un'analisi Di ciò che è stato fatto Nel non semplice 2022 C'è da dire Che c'è stata Una lieve flessione Delle istanze presentate Del difensore civico regionale Sono state 1495 Le istanze presentate Nel corso del 2022 Quindi meno Dell'anno precedente Dovuto però In realtà Più che alle Carenze strutturali Dell'ufficio Allo strasceco Derivante Dalla pandemia In quanto Questo ha Senza dubbio Provocato Un parziale allontanamento Da parte dei cittadini Rispetto all'istituto Della difesa civica C'è stato però Un progressivo avvicinamento Ai territori Della toscana Dell'istituto Del difensore civico Sono stati Ulteriormente aperti Numerosi sportelli Di prossimità Un po' disseminati In tutto il territorio Della regione Mi piace evidenziare Che questo è Un aspetto Nel quale si compendia L'effettiva gratuità Del difensore civico Perché il cittadino In questo modo Evita di avere Anche i costi Di trasporto Per poter accedere Alla tutela civica Due altri aspetti Centrali Sono stati evidenziati Che anche nel 2022 Hanno caratterizzato L'attività Del difensore civico Da una parte La partecipazione Alle commissioni Miste conciliative Istituite presso Le aziende sanitarie Del territorio toscano E finalizzate A dirimere I contenziosi Tra i cittadini E le istituzioni In ambito sanitario E dall'altra parte La partecipazione Del difensore civico Attraverso i propri funzionari All'organismo Di conciliazione Istituito presso L'autorità idrica Toscana Accreditato da Arera Che si occupa invece Delle controversie Dei cittadini Con il gestore Del servizio idrico Il centro-sinistra Con le proprie divisioni Ha fatto perdere Veramente troppo tempo Per nove Nove Mesi è mancata Questa figura Ai toscani E noi Siamo stati Molto critici Che le divisioni All'interno del centro-sinistra Abbiamo fatto Mancare Questa figura Ai toscani Notiamo Che il nuovo difensore civico Si è messo a disposizione Cerchiamo di avere Un buon rapporto Ma certo Il 2022 Questi nove mesi Sono stati veramente tanti Sul difensore civico Abbiamo espresso Una massima condivisione Delle politiche Portate avanti Dalla nuova difensora civica Lucia Annibali Rispetto a degli elementi Importanti Rispetto alla conoscenza Della funzione Una presenza sul territorio Le opportunità Fornite Nei confronti Dei cittadini E delle cittadine toscane E soprattutto Un servizio di tutela Nei confronti Di tanti servizi integrati Dove il cittadino A volte si sente solo Rispetto a queste società A tutte le bollette Che arrivano a casa A tutta una serie di servizi Dove le persone Non riescono ad avere Una risposta In un'interlocuzione Quindi un elemento È un giudizio positivo Che prosegue Che rilancia Una strategia positiva Che conferma Anche la validità Dell'operazione Che portò a me stesso A avanzare La proposta di Lucia Annibali Quale il nuovo Difensore civico Della Toscana Noi veniamo da un anno In cui il difensore civico Non ha fatto assolutamente niente Dopo in passato Qualcosa aveva fatto Ricordo ancora Le denunce in aula Del collega Stella Sugli aperitivi Costosissimi Per inaugurare I sedi in giro Per la Toscana Lo scorso anno Il difensore civico Non ha fatto niente Perché il 10 di aprile Si è dimesso Dopo solo 4 mesi Di lavoro Per andare a fare altro Per andare a fare L'addetto stampa Dell'agenzia Che rilancia I comunicati Dell'aggiunta regionale Quindi siamo stati 9 mesi Perché il nuovo Difensore civico È arrivato a febbraio 9 mesi Senza difensore civico E anche in questo caso Approviamo un atto Dove il Partito Democratico Dice Esprimiamo grande soddisfazione Per il lavoro svolto Facendo il copia e incolla Dell'atto dell'anno scorso Di fronte a un difensore civico Che lavora 4 mesi Si rimette Perché va a fare altro E per 9 mesi La regione toscana Resta senza difensore civico Perché Italia Viva Il PD si doveva mettere D'accordo su chi nominare Noi esprimiamo Grande soddisfazione Noi dovremmo esprimere Grave disappunto Per quanto è successo Una soddisfazione Torrita di Siena Si veste di festa Con il Torrita Blues Festival 35esima edizione Festival di musica Che si svolgerà nel Borgo Da giovedì 22 A sabato 24 giugno Una cena in beneficenza Tanti sono gli appuntamenti Con gli artisti blues internazionali E italiani Ospitati al festival Anche La Toscana Irene Grandi E' uno dei più importanti festival Torrita Blues Festival europei Che si svolge da oltre 30 anni A Torrita Tra le meravigliose colline Vicino a Pienza Montepulciano E Cortora Un evento importante Un evento che racconta bene La bellezza di una Toscana diffusa Torrita Blues Renderà Torrita La capitale toscana Della musica Del blues In questi giorni Un evento importante Un evento da far conoscere Un evento che tiene insieme Cultura Che tiene insieme Arte Perché Torrita è uno dei borghi Più belli della nostra regione Che tiene insieme Anche la capacità Di saper fare solidarietà Questa è la Toscana Ci sarà una cena In cui le risorse Arriveranno Verranno messe a disposizione Di casa Marta Un luogo bello Un luogo importante Un luogo che aiuta I bambini che soffrono Quindi grazie davvero Per queste giornate Che siano momenti Di festa Di divertimento Ma anche di solidarietà 35 anni che facciamo Blues a Torrita Grazie all'associazione Torrita Blues Un'associazione A questo punto Sicuramente storica Porta nella nostra piazza Di Torrita Degli esponenti Di questo tipo di musica Importantissimi Quindi abbiamo ospitato Per questo motivo Abbiamo ospitato Nel 2016 Il festival europeo E quindi Diciamo Un appuntamento Tradizionale Posso anche dire Che durante il periodo Della pandemia Non ci siamo fermati Abbiamo fatto Un'edizione Di quelle Come usavano A quei tempi Insomma Assolutamente In sicurezza Pur di non fermarsi Quindi è un'associazione Che ci tiene A che questa tradizione Del blues Venga mantenuta a Torrita E come amministrazione La sosterremo sempre Ed è tutto Per questo nostro appuntamento Vi ricordo Per tutte le informazioni E dell'uscitazione C'è il sito www.inconsiglio.it Io vi aspetto Come sempre qua Tra sette giorni Dentro il consiglio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti